ciao a tutti e ben tornati allora in questo video faccio vedere le collane per cui una che ho addosso che ho comprato da poco la prima è questo il gufetto è veramente veramente bellissima veramente l'adoro da su me saprò che scueravo perché si sono impigliate tutte e tre quindi non vi dico per toglierla quanto ho sperato invece è più o meno ne ho pagata 6 euro luna la seconda è questa con le perle e l'ultima è questa con questo questo qua alla fine anzi poi c'è l'ultimo ultimo che questa che è molto semplice insomma molto molto semplice e ripeto così volevo comprare di fare in un negozio quello che c'è in piazza piazza castello tutto un euro mi pare adesso non mi ricordo neanche non mi ricordo neanche più vi dico sono recenti ma insomma nel netto ce l'hanno queste collane e niente un bacio a tutti ciao ciao al prossimo video